Ehi ragazzi come va? Io sono Ferimiki E io sono Steph e questo è Gigi Acrema Spar E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Simona, Ale The King, Miki Chan, Chris Zerofina, Nexus e Deni Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione, vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi Allora io prima di iniziare questo nuovo episodio di Spar vorrei farti una domanda Che accidenti hai combinato con Steriniki? Cosa sono queste cose? Ho cercato di creare un'arma da guerra mortale per distruggere appunto il boss che dobbiamo affrontare Ma diciamo che non è bellissimo, ok? Non vorrei ricevere delle critiche E' terribile, è davvero terribile con queste cose circolari che sono, delle lame, non lo so Cioè fa paura però guarda, fa paura in tutti i sensi Quello è l'importante Sia a livello di arma sia a livello di aspetto Fa davvero paura in tutti i sensi Comunque lei ha appena detto tu L'obiettivo più importante di oggi sarà quello di andare ad ammazzare almeno un boss Che oltretutto ci hanno detto anche che si chiamano Titani Bello come nome Titani è meglio in effetti Titano sa proprio, sì Sa proprio di cosa possente, gigante, indistruttibile E per farlo ovviamente abbiamo preparato una squadra formidabile Fai vedere i nostri alleati Allora li facciamo vedere col cannocchiale perché ci vuole la presentazione perfetta Abbiamo lui che si chiama Aver credo, non lo so Sì Aver credo Ed è una specie di moscerino evoluto ragazzi Un moscerino gigantesco, super evoluto È un piccione evoluto Insomma perché vedi che è un po' l'andazzo da insetto È un po' un piccione insetto, molto bello È un incrocio tra un insetto e un piccione Esatto, che dovrebbe essere fortissimo Ha 250 di vita, sono quelle specie ragazzi che se ne trova solo uno alla volta Che sono fortissimi perché sono pieni di vita Il più bello però ovviamente è lui Lui sì che fa davvero paura L'altro era un po' sobrio, diciamo che sì sembra cattivo ma non troppo Lui sì, non hai proprio dubbi Guarda nella schiena che cos'è, è bellissimo È gigantesco È gigante, è bellissimo Questo da due pugni ti stende a rivederci grazie E poi ci siamo noi No, no, è terzo, cioè era nascosto Scusa, ogni volta che vedo noi rimango un po' allibito Questo diciamo che è un po' il fratello storpio dell'altro Ha avuto qualche problemino, vedi è molto simile Però diciamo che non fa la stessa paura, non incute potenza Ha un po' di problemi con la faccia secondo me Sì, ho notato Bisogna dire che questo è il più brutto di Stereniki Dai, almeno uno più brutto di Stereniki l'abbiamo trovato Secondo me non ce n'è mezzo più brutto di Stereniki Eccolo, eccolo, oh mio Dio Ma cos'è questo qua? Sembra il tuo cane Non te ne aspettavi questo? Mi sto messo a ridere perché in effetti di faccia è uguale a Nabi Allora Poverina, non la criticiamo Concentrati, concentrati Bisogna, attacchiamo da lontano Ok Ok, ok Le abbiamo tolto tre Le abbiamo tolto tre di vita Sembra un cane per davvero Sembra un cane che ha subito mutazioni radiative, ti giuro Houston, abbiamo un problema Che succede? Che ho paura Perché non attaccano i nostri alleati? Perché scappano? Non sono proprio intelligenti Ah, ok, ok, sono specie poco evolute Sì, esatto Ok, ok Dai, è il momento, dobbiamo attaccare No, no Perché scappi e basta? Perché ho paura E non so chi ha paura ma devi cercare di attaccare Ecco, ci siamo dimenticati di fare uno spuntino prima di andare Ok, ok, sei pronto? Ci sei? Alla carica! Oh mio Dio, sei partito così Guarda, vanno anche i nostri alleati, ci seguono Ma dove vediamo la vita del titano? Sì, vabbè Dove vediamo? Oh mio Dio, li sta facendo fuori, vero? Sì Ne ha già fatto fuori uno? Sì È fortissimo Facciamo che continuiamo a scappare Allora, però gli abbiamo tolto vita Ah, ecco la vita, è ancora 847 su 1000 150 l'abbiamo tolta di fatto Spero che continui a pensare a noi Così mentre gli altri gli spaccano la faccia No, ma vedi, perché poi si prendono, vedi? Attacca loro se loro stanno davanti Quindi è un po' complicato Dai, secondo me non ce la faremo mai Guarda, ti dico la verità, io la vedo davvero difficile Non è vero Sei molto concentrato ma secondo me andrà malissimo Non lo so, io stavo pensando E se lo portiamo vicino a nidi di qualche altra persona Magari si mette ad uccidere a loro Ma sei cattivissimo Ma sei cattivissimo E lo so, sono anche disperato però Oh mio dio, c'è un altro Vai via, vai via Magari li facciamo scontrare Si scontrano? E che ne so Sarebbe bellissimo se si scontrano No, vanno tutti contro di noi Vero? Vanno tutti contro di noi Assolutamente Purtroppo anche questi titani guardano i nostri video E sanno qual è il nostro piano Ovvero quello di sterminarli E quindi non ce la Guarda come ti guardano malissimo della serie Non ci provare neanche Guarda quello che scappa, poveraccio Sì, però vedi che funziona un po' Stiamo facendo uno stermine È lunga la storia È perché ci vuole davvero un sacco Penso che tra due ore saremo ancora qui se continui così Cioè lo stai colpendo a distanza Si Con lo sputo, giusto? Esatto Esatto, lui piano piano È una persona ridicola Di fatto sta funzionando È una tattica terribile Io mi aspettavo qualche attacco corpo a corpo Qualcosa di Capito? No, no Scappa Aiuto Qualcuno scappa Almeno fa ridere quando scappa Guarda Esprime bene la gravità della situazione Mettiamola così No ragazzi Non ci potete seguire in due però Già non è una cosa alla pari quando siamo uno contro uno Figurati due contro uno Ma non lo so perché poi quello è tornato Seguirci Dove Dov'era finito? Dove accidenti l'abbiamo ripreso? Non lo so So solo che stiamo togliendo quattro di vita a colpo Quindi con cento colpi togliamo quattrocento Quindi dobbiamo sparare circa centoventi colpi per ammazzarlo È una buona notizia no? Sì molto Molto La buona notizia è che abbiamo seminato l'altro dai Almeno quello Ok sì Se ne è andato è tornato a farsi i fatti suoi per fortuna Sei lentissimo No non ce la faremo mai Cioè io ti direi di dare porfe Guarda Ti giuro che è la cosa più stancante Che ho mai fatto in vita mia Due ore dopo ma almeno a novanta di vita Quindi direi che ormai ci siamo Anche se la tua tecnica non è diciamo la più gloriosa Tra quelle esistenti però È l'unica possibile secondo me Ce la stiamo facendo Quindi voglio Sì cioè gli alleati ci hanno abbandonato subito Abbandonato Poverini sono stati trucidati Scusami scusami Che cavolo ti fai ammazzare? Non ce la fai a sparare un po' da lontano? A stivare qualche colpo? Abbiamo scelto degli scimpanzè Non erano proprio furbi tatticamente diciamolo Ho notato Ho notato Solo noi siamo stati furbi E anche se ci abbiamo messo una vita Almeno ce la stiamo facendo Non cattar vittoria No sai perché No dai a 50 Non può finire così Può capitare qualsiasi cosa Magari un bug No dai No non è possibile Magari inizia la pioggia di meteore Ci colpisce in testa Ci blocca per terra Arriva lui ci strana Allora non portare sfiga Non portare sfiga Stai zitto Ok Per farti capire che comunque È un momento delicato Abbiamo quasi finito Devi solo smetterla di portare sfiga Questi continuano a scappare In continuazione Io sto iniziando però a provare un po' di pena Sto pensando di lasciarlo vivo Così a 25 Perché boh Guardalo poverino Guarda come corre Lui vorrebbe semplicemente giocare con noi Non ci provare guarda Pensa che siamo una pallina E ci sta inseguendo La vorrebbe semplicemente riportare al suo padrone Ormai è finita Smettila Ormai è finita E lo devi finire guarda Non l'accetto altrimenti sta cosa Guarda Guarda 8 Dai L'ultimo colpo L'ultimo 4 Sei sicura Dai Sei sicura sparo Muore di veleno Sparo Guardalo vai Sparo Pam Assessino epico Uccidi una creatura epica nella fase creatura Abbiamo fatto anche un achievement Vedi Anche se non è stata epica la battaglia Però è stato epica la nostra impresa Guarda come festeggio Che fai? Miam 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 Adesso vomita Preparati Questo è un gesto di disprezzo contro i titani Abbiamo vinto Stere nicchie più forti E ce l'ha fatta da solo Perché di fatto ce l'ha fatta da solo Gli altri sono morti subito Sono morti subito Sì Sono stati un po' inutili Devo dire la verità Sono stati abbastanza inutili Però l'importante È che ce l'abbiamo fatto È che abbiamo compiuto Questo obiettivo Io però avrei avuto Una ricompensa un po' più bella Ti speravo ci desse Un pezzo fighissimo da mettere Ci desse qualche pezzo da mettere Figo che magari non trovi in giro Invece non ci ha dato nulla Solo un achievement Così va bene Così Altro che sembra un insetto Sta iniziando a funzionare Sembra un essere cattivissimo Sta iniziando a funzionare Ci serve un corno Ci serve un corno Questo è molto importante Sì 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 Allora abbiamo questo tipo No Anche secondo me No sembra un cerbiato Così no Ti prego Questo è anche un rapeggio No sembra un alcio invece così Una capra Un montone Un montone Bellissimo No allora non ci sono corna Non ci possiamo mettere Qualche altra cosettina Allora Vediamo dopo La bocca E poi vediamo i dettagli La bocca siamo troppo limitati Siamo troppo limitati Queste qua da Erbivoro Sono una limitazione Incredibile Io questa cosa davvero Non riesco a digerirla Ok Questo è lavoro finito Secondo me È figo Guardatelo un po' Ci abbiamo lavorato Non so quanto tempo Mi sembra bello Tu che dici Mi sembra cattivo Il punto giusto Sì sono d'accordo Sono d'accordo A me piace Guarda ti dirò A me piace Allora Sono soddisfatto Da queste parti Questa cosa Ci abbiamo messo un sacco A farla È fighissima È cattivo Ha delle ali bellissime Tutta una cosa Allora Guarda ti dirò Io non sono convinta Della forma Esatto Perché la forma Non ci riusciamo proprio A modellarla Come vorremmo È davvero difficile Riuscire a farla bene Però dei dettagli Che abbiamo messo E della fantasia Che abbiamo scelto Sono molto soddisfatta Esattamente Mettiamola così Pienamente d'accordo Con te Direi che comunque E siccome per la forma Non ci possiamo fare nulla Rimane così La verità rimane così È il nostro massimo Dici È proprio il nostro massimo livello Allora io non capisco davvero Come si deve modellare È proprio complicatissimo Cioè ogni cosa che tocchi Poi diventa ancora più sorta Quindi davvero Non so poi come fanno A fare quelle creazioni fighissime Però guarda Scusami dai Almeno cucciolo È sempre carino Ha più occhi che faccia Però è carinissimo Ciao bellissimo Ok 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 No a me Ti dirò a me piace Finalmente ci siamo Ci possiamo muovere Guarda che bellini Li puoi muovere tutti assieme Carinissimi Fagli andare a mangiare Fagli andare a mangiare Che sono cavati No loro non mangiano Adesso Sono più evoluti Ora raccolgono la frutta Ah e la mettono In questo tavolino qua Capito Bellissimo Guarda 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 C'hanno pure i piattini Ora te li faccio vedere Guarda come siete bravi Vedi Mi sto emozionando Stanno crescendo Mi sto emozionando Guarda come diventano bravi A raccogliere la frutta Nel loro cestino Con questo aspetto Spaventoso Dimmi tu Se devono raccogliere frutta Dimmi tu Eh vabbè È il loro destino Ormai sono arrivati a questo Io mi chiedo una cosa Vedi P5 E adesso vedi Abbiamo l'indicatore Che non è più del DNA Ma è del cibo raccolto E col cibo raccolto Noi possiamo costruire Altri edifici Della nostra tribù È bellissimo Sì perché adesso Andremo a costruire Gli edifici Tutti questi spazi vuoti Noi ci potremo mettere Un edificio È bellissimo Potremmo fare la nostra tribù Super attrezzata E fare un sacco di armi Di distruzione Giusto? Esattamente no Mi viene pesato Ti ho fregato Sono disgraziato Eh tu pensavi Che non ti stessi ascoltando Esatto perché non mi ascolti mai Ho detto ne approfitto Infatti non ti stavo ascoltando Però mi è arrivato all'improvviso Appena quando ti arrivano in ritardo Che cosa infatti Non ti stavo ascoltando Mi è arrivato all'ultimo Mi sono salvato È stato molto bello Ok Un'emozione indescrivibile Esatto Ok comunque Ci fermiamo così Nel prossimo episodio Ovviamente avanzeremo In questa nuova specie Era Qualunque cosa sia Costruiremo tutti gli edifici Per distruggere tutti quanti Che succede? Ah è un'altra tribù Che si sta formando E se la fa vedere? Sì ma cosa siete ragazzi Dai Ma potevano Cioè stanno pure twerkando Ma potevano farli Un po' più belli Adinevi che twerkano Fanno troppo ridere Fanno troppo ridere Una tribù rivale Di Pui Pui Non ci interessava comunque Non capisco Perché ci fa vedere Sto filmato A noi non interessa Sinceramente Anche perché tanto Vogliamo essere gli unici Nel pianeta Quindi grazie Ma non ci interessa Ecco un passo qui Nella minimappa Villaggio rosa Hanno pure un colore Più carino del nostro Sì Noi che colore abbiamo? Non lo so Marrone Ah perché noi siamo marroni Quindi loro erano rosa Villaggio rosa Non mi piace Non mi piace Comunque quindi prossimo episodio Avanziamo con la fase tribù E per oggi ci premiamo così Sono soddisfatto al 100% E sono felicissima Io soprattutto perché siamo riusciti Ad ammazzare il titano Sono davvero felicissima di questo Avevo paura Che non ci saremmo riusciti Anche io Dico la verità Avevo davvero paura Comunque Prima di chiudere il video Andiamo ovviamente A salutare gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Ale Antonio Chicken YouTube Black Horse 97 Chiara 34 E Michelle Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Allora ragazzi Il video finisce così Se vi è piaciuta C'è di un bel like E se è la prima volta Che vedete i nostri video Potete considerarli Di iscrivervi Per non perdervi Altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao